Paola, vero? Iniziamo a andare al TG2 Possiamo appare un attimo Ok, come vuole Dopo sette mesi dall'ultima manifestazione il significato di questo fattere per arrivare ancora una volta la sensazione di quello che accade qui in Italia cioè di quanta solidarietà e di quanto affetto ci sia Io sono colimano 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.